Nonostante il cessato del fuoco in Ucraina risulti formalmente in vigore, nel paese la violenza continua a mietere vittime. La situazione più difficile è quella attorno all'aeroporto di Donetsk. Cinque civili sono rimasti uccisi per i tiri dell'esercito ucraino, mentre tre soldati sono morti in scontri a fuoco. Un rapporto presentato a Ginevra dalle Nazioni Unite mostra che nonostante la tregua il conflitto continua a far scorrere il sangue. Nei giorni seguiti al cessato del fuoco, a partire dal 6 settembre fino al 6 ottobre, 331 persone sono rimaste uccise e 831 ferite, il che dà una media di una decina di morti al giorno. Lo stesso rapporto dell'ONU rivela che nelle regioni orientali dell'Ucraina, dallo scorso mese di aprile ad oggi, almeno 3660 persone sono state uccise.